Ciao ragazzi, come state? Allora, visto che è da tanto che non ve ne propongo uno, fatta eccezione per quello con Johnny che vi è piaciuto tantissimo e vi ringrazio tantissimo per i vostri complimenti ho deciso di girare un video di Hating Sounds e siccome sono le 4 e mezza, 4 e 34 ho fame e voglio fare merenda e oggi è caldo, è una bella giornata ho scelto di mangiare con voi un gelato, questo è un simil magnum mandorlato con cioccolato al latte e le mandorle esterne e all'interno c'è gelato alla vaniglia quanto è bello è davvero buono sì, questo rossetto non è adatto, infatti resta tutto sul gelato, non so se lo vedete però, siccome è un'improvvisata, non sono stata a cambiarmi il rossetto io spero che sentiate bene questa settimana è stata una settimana veramente molto piena ma molto piena in senso bello ho fatto delle cose belle e sono stata tanto con la mia famiglia e mi sono divertita avrete sicuramente visto su Instagram se siamo in contatto su Instagram e sono stata alla comunione di mia nipote c'era il cane con il papione bianco stupendo e poi sono stata da mia sorella abbiamo registrato i video per fare l'intervista doppia per il matrimonio faremo un'intervista doppia in stile le iene con le domande cambiate naturalmente per fare un po' ridere gli invitati e quindi sono stata da lei tra una cosa e l'altra tra l'intervista a lui e l'intervista a lei ci abbiamo messo un bel po' la sera ci ho invitati a mangiare la pizza e quindi abbiamo passato una serata piacevole e poi qualche giorno dopo qualche giorno dopo mia sorella aveva la prova dell'abito da sposa e è stato un bel pomeriggio anche quello lei è bellissima sta da dio con quell'abito anche le scarpe sono perfette il velo è perfetto lo deve solo un po' stringere sopra sul seno e accorciare un pochino perché siccome non aveva ancora le scarpe quando l'ha scelto logicamente lo accorciano poi prendendo le misure in base alle scarpe e quindi mi piace boi mi è finalmente arrivato cioè ho scelto finalmente l'abito che metterò al matrimonio è un abito molto bello lungo viola ma di un viola molto acceso, molto bello sembra un po' stile non lo so, è molto morbido in tulle ha il collo alto qui con un bel merletto e poi scende così a cannottiera ed è veramente bello, mi piace quindi ho sistemato anche quello niente, è stata una settimana piacevole con un bel Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come è andata? Avete finito? Sono andati bene? Raccontatemi un po' le vostre vicende. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io credo che sia giunto il momento di salutarvi. Vi auguro tanta, 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 tanta serenità. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, io vi aspetto al prossimo. Ciao.